è ritardissimo non mi sono accorto dell'orario ciao ciao ragazzi vediamo un po oggi un gran lavoro chissà se il cavo mi segue gran lavoro oggi ho fatto parecchio ritardo mi sono reso conto dell'ora che mi è arrivato un messaggio sono andato a vedere chi fosse invece 19 e 10 quasi luca alessio antonazzo luca cimarra antonio battista il lavoro molto 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 difficoltoso molto livello molto alto molto alto oggi domenica diverso dal solito però ciao ciao luca però oggi vediamo una qualcosa di eccezionale si ho spostato ha spostato ho deciso di spostarla perché pensavo che comunque la domenica ci fosse un po più più di persone anche perché vabbè ieri preferivo preparare un pochino sono lavori molto molto difficoltosi adesso vediamo una pianta una pianta un albero sardo diciamo così ciao riana come è andata che come stanno andando le coltivazioni come state andando fatemi sapere facciamo un po di conversazione così aspettiamo un po di persone oggi volevo parlare di distacco di margotta in questo caso io vabbè io mi sono tra virgolette specializzato ciao claudio albanese specializzato sui fenici però questa tecnica la si può adottare su tutte le piante da poco è stato fatto un post di richiesta se fosse possibile un saluto da milano ciao antonello se fosse possibile anche sui pini certo che è possibile tra l'altro se margot siamo le radici carmelo piana se margot siamo sulle radici praticamente è possibile su tutte ciao enzino questa tecnica permette di poter postare esemplari anche importanti no anche di grosse dimensioni io penso io sono di carbonia ecco luciano se da tu mi capirai io sono di carbonia e mi dispiace quando vengono abbattuti i pini che sono stati piantati quando carbonia è stata edificata quindi 80 anni fa e solo per scarsità di manutenzione scarsità di conoscenze tecniche vengono abbattuti o perché crescono troppo storti oppure ormai sono andati troppo in alto si può evitare questa cosa parte le manutenzioni sulla chioma che specialità dei giapponesi ma che io conosco perché ho fatto manutenzioni di giardini anche assieme a kobayashi mi è capitato e quindi vi devo dire da bonsaisti capirete che la pulizia degli aghi vecchi che viene fatta sui pini bonsai viene fatta anche sulle piante da giardino quindi anche se una pianta gigantesca di pino la pulizia degli aghi vecchi invernale viene fatta anche su quelli per stimolare l'emissione di gemme che stanno indietro e quindi mantenere una chioma sempre più o meno delle stesse dimensioni quindi facendo così si può capire benissimo che è un bel esemplare di pino che sta in una città lo si possa mantenere sempre in forma sempre in vigore e con dimensioni di chioma che non vadano a essere sempre più alti o sempre più grandi nel momento in cui c'è l'esigenza di spostare anche un grosso esemplare di pino parlo di pino perché alla fine pare che sia l'essenza più più difficoltosa da far radicare ma non è così si possono fare radici far fare radici nuove dalle radici principali francesco percili un po di tempo che non seguo vabbè quindi radici nuove da quelle principali come ad esempio queste qua qui c'erano due due radici principali due vene ok una e due vene alimentate da due radici primarie da dove io ho fatto adesso vi faccio vedere la pianta dove ho fatto questa margotta ok ma questa tecnica si fa benissimo la parte questa tecnica si fa benissimo anche sui pini su tutte le piante su qualsiasi tipo di pianta perché andiamo a margotta ciao marco caneo margotta amo le radici primarie ok tecnica per me molto semplice spiegata nella guida quindi chi non l'ha presa magari se la prenda perché fa parte diciamo del mio lavoro quindi si possono ottenere possiamo mi sono tagliato mi sono tagliato parecchio un lavoro difficoltoso quindi si possono ottenere delle esemplari da poter noi possiamo spostare di qualsiasi dimensione quindi nel momento in cui noi margotta amo anche un esemplare ultra secolare anche grande anche grandi 10 metri in 23 anni si può ottenere una nuova zolla e poterlo spostare quindi ci rendiamo conto che su esemplari di un metro due metri ciao massimo questo intervento lo possiamo fare senza l'ausilio alla fine non di gru o di cose particolari poter spostare una pianta nel nostro caso nel mio caso ho spostato ginepro che vi faccio vedere le dimensioni sono ragguardevoli e non metto un po più in posizione così così ok grandetto allora quando è quando possiamo spettacolissimo spettacolissimo quando il momento in cui capiamo di poter staccare tutte le tecniche per ottenere le radici non sto a dirle ci vuole una giornata intera e ci sono molte varianti e sono ben scritte sulla guida invece quando quando è che possiamo staccare possiamo staccare nel momento in cui notiamo abbondanti radici dentro dentro la caramella ok vedi qui ora la pianta è già tutta in posizione ieri ho impiegato un'ora un'ora intera a studiare la giusta posizione adesso vediamo anche il giro di secco pianta fantastica stimata sui 4 500 anni ieri ho impiegato un'ora un'ora per ragionare cercare di capire di sistemarla nel migliore dei moti questo sfruttando al meglio le sue contorsioni cercando di capire al meglio quali sono le sue potenzialità e come compattarla il più possibile perché allora in questo momento da qua da questo punto a questo punto abbiamo un metro e passa un metro e venti ok quindi da un metro e venti bisogna passare al massimo arrivare sin qua questa parte non ci sarà utile ottenere della vegetazione qui quindi tutto lo studio è servito a mettere in evidenza questo giro che è bello da ogni lato qui c'è un bellissimo avvitamento di radici questa passa sotto e questa passa sopra queste sono vecchie radici anche questa vecchia radici che alimentavano questa parte qua ok qui ho messo una vita per ancoraggio ma qui ho previsto un uno scavo una divisione sulla legna secca quindi non ho di certo rovinato questa posizione qui cosa comporta comporta che io dovrò qui c'è una grossa vena qui c'è dalla vegetazione ma come possiamo vedere è distante dal tronco vedi quindi lo studio parte anche da queste possibilità è la possibilità che ci sarà ben ben ponderata è quella di staccare la vena e portare questa vegetazione qui qua adesso vi faccio vedere vedi e già già siamo in posizione solo che è distante quindi andrà staccata è la parte verde dovrà essere portata qui per creare l'apice poi qui abbiamo già della vegetazione che sarà utilizzata per creare i palchi centrali e dopo si studierà una maniera per portare questa possibilmente questa o far crescere questa qua e creare della vegetazione in questa zona non dobbiamo andare oltre che vedi questo è lo studio cercare di comunque di avvicinare le masse verdi al punto focale arrivare con l'apice in questa zona qua possibilmente avere un po di verde anche dietro fare profondità e anche in questa zona ok questo è tutto questo studio tutto questo studio è scatturito da un'ora in silenzio ieri e ho provato a posizionare la pianta anche in verticale ok in verticale ma scusate non me lo fa girare il telefono comunque in verticale però ottenevo questa parte qua risultava troppo dritta comunque alla fine tutto questo pezzo era poco armonico con questa zona qua quindi il lavoro che bisognerà fare sarà proprio quello di mettere in risalto gli avvitamenti e quindi anche la vegetazione girerà in questa maniera è questo piccolo tratto alla fine dovrà essere leggermente diciamo così camuffato in modo tale da rendere l'esemplare vedi così è evidente no evidente preparato una bella cassa in legno tutto legno nuovo fuori di drenaggio bardo la grossissima drenaggi perfetti ok utilizzerò una granumettina non troppo grossa in questo caso tra i 10 e i 25 mm di bardo la di bardo la top soil poi magari giorni prossimi e vediamo anche altri perché ho diverse piante da mettere in questo in questo bancale ce ne stanno ce ne stanno tre di sicuro ho già stabilito più o meno quali sistemare poi giorni prossimi vediamo magari ad una ad una perché sono lavori particolari molto impegnativi questo tipo di lavoro su una pianta del genere va ben ben studiato è un super esemplare e quindi merita guarda qua si vedono ancora meglio gli avvitamenti però non si poteva usare come fronte perché la chioma tende a dare troppo la ho provato a studiare anche una forma eretta ma non mi convinceva quindi l'unica l'unica plausibile questa qui semi cascata semi cascata avvitare bellissima in futuro questa zona bisogna prendere spunto dal già dalle depressioni qui c'è una depressione qua ce n'è un'altra qui ci sono delle fessure e quindi sarà sicuramente lavorata in modo tale da accompagnare le vene le parti già la forma che hanno le parti secche le parti vive che qui sono come si può vedere sono parecchio evidenti qui andiamo sotto che quindi anche qua bisognerà scavare e creare altre vene che assomiglino a queste possibilmente non dello stesso spessore quindi più grosse più fini per andare a mettere in evidenza all'avvitamento il lavoro sulla chioma sarà importantissimo qui adesso è posizionata in ombraio quindi non dovrò molto ovviamente non avrò problemi sull'attecchimento bisogna sapere che anche in questi esemplari basta una piccola cosa che va storta per dire esemplare quindi anche dei movimenti particolari o sbagli una irrigazione un giorno sbagli una irrigazione capitale 1 1 2 irrigazioni se sbagli asciuga troppo butti via tutto perché in questo momento la pianta non è in forte spinta ok anche se già concimata nelle caramelle già concimata però non a quella metabolismo accelerato che abbiamo in genere nel nelle piante già invasate già da tempo ok questo è lavoro avrei dovuto mettere in vaso anche questa qua di cui abbiamo visto il video vi faccio notare la vegetazione vegetazione che a me piace tantissimo perché comunque compatta formata tutta da ciuffetti piuttosto piccoli ottima ottima vegetazione poi c'è anche un altro esemplare che aspetta è questo lo stesso lo vediamo i giorni prossimi ok non sembra ecco ora si capisce di più però molto grande molto grande ok allora possiamo insieme sicuramente se me lo fa fare andiamo un po' si riesco ecco forse così si vede si vede un pochettino pochino ora bisogna rimuovere il fil di ferro forse questa mi permette questa è sempre l'operazione che mi mette più ansia che ho paura sempre che si sfasci la caramella però non c'è altra soluzione anche se qualche soluzione nello sto pensando per ridurre questi questi problemi in futuro metterò in pratica vedremo se riesco e lavorare direttamente sul bancale perché è molto pesante e spostarla anche dopo che è stato fatto il rinvaso non è mai consigliabile andiamo se riesco a tornare gli ultimi ultimo pezzo e non vedo ovviamente bisogna fare col tasto un pochettino ma cambiamo forno e ci va A presto allora se vedo che tende a cedere un pochettino per evitare per evitare che c'è da completamente leggo con del fil di ferro da legatura che marcisce nel giro di breve un piccolo sostegno vediamo se funziona un pochettino per evitare un pochettino per evitare un pochettino per evitare ecco una ce l'ho fatta ecco adesso cerchiamo di togliere anche l'altra ecco 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Velocemente metto nello spessore sotto. Grazie a tutti. 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 Ecco. Eccoci qua. Togliamo. l'elettrica. Allora, vediamo se ci sono domande. vediamo un po'. Ok, così. Allora, vediamo. a tutti. Allora, vediamo. Allora, vediamo. ci siamo. Ci siamo. ok. Bene. no? No. tutti. Allora, vediamo. in questo momento. può essere. Può essere. Questo è una protezione che ha la pianta. Ce l'ha in natura. Quindi l'ideale è mantenerla. movimento è perfetto. Abbiamo troppa chioma, come ho detto prima. Questa parte verde dovrà essere portata qui. in questa zona. E poi questa, questa zona qua bisogna rinverdirla. In modo tale da far terminare la pianta qui. Questo è il lavoro. Voglio vedere se ci sono. Avete fatto un po' di domande, non lo so. Nel frattempo che lavoravo. Andiamo, forse c'è qualcosa. Domenico Guggiroli. Vediamo un po'. Bruciatura del legno del vaso. Perché si fa anche all'interno. Non marcisce il legno interno. A contatto con acqua e bardula se non è bruciato. Allora io internamente lascio la resina. La verniciatura gialla. Vedi? All'interno lascio il giallo. Non lo brucio. Esternamente lo brucio perché il giallo fa. È proprio brutto nei confronti della pianta. E quindi lo brucio perché è molto più bello. Esteticamente molto più bello. Non mi interessa se marcisce. Diciamo che tre anni li dura tutti. Anche cinque. E quindi non è un problema. Ok. Facendo in questa maniera. La bruciatura del legno del vaso. Ah sì. Due volte ha scritta questa domanda. Vabbè brucio fuori perché mi piace. Facendo in questa maniera. dentro lascio il giallo. Mi dura anche cinque anni. Quindi non faccio diversamente. Tanto l'importante è che faccia almeno tre anni. Ok. Perché la pianta così. Insomma. Vabbè. Su questa qua ci sarà da lavorare cinque anni. Ci saranno tutti da lavorare. Per accorpare la chioma al tronco. Per renderla presentabile a livello strutturale. Dopodiché si iniziano a fare i rinvasi. E su. Su vasi magari anche un po' più piccoli. Questo non è molto grosso eh. Quindi si potrà rimpicciolire molto facilmente. Nel caso si potranno tenere anche nuove radici dalla base. Movimento bellissimo. Quando taglierai la parte che non serve al tuo disegno. Allora. In questo momento. Io non so. Siccome ci sono due vene. Due vene. Una e due. E alimentano parti della pianta differenti. Una vena alimenta questa chioma e questo ramo. Ok. L'alvena grossa. Questa vena grossa. Che gira. Va sotto. Alimenta. Queste le chiome più distanti. Che al disegno non mi servono. Ok. Allora. Quindi ci sono due vene. Io vorrei mantenerle tutti e due. Però se io tagliassi la vegetazione che è molto distante. La prima. La perderei. Non sapendo in anticipo come va a finire. Come va da finire. Quindi è giusto mantenere in questo momento. Questa vegetazione che è equilibrata rispetto all'apparato radicale. In modo tale da poter avere in futuro scelta. Potrebbe anche scartare una delle due vene. E io ho comunque vegetazione per poter eventualmente costruire la chioma. Quindi bisogna sempre lasciare più possibilità. Non tanta vegetazione. Ma più possibilità. Più possibilità di disegni e di lavorazione. Questo è importantissimo. Sto iniziando a fare delle legature. Lo stile è sempre lo stesso. Ma sto usando in questi casi dove serve tenuta. Fil di ferro. Filo di ferro da legatura. Molto grosso. Molto grosso. Questo qui non bisogna lasciare nulla al caso. Ci serve molta esperienza. Ho visto anche per togliere la busta. Bisogna fare molta attenzione. In questo caso non era strapiena di radici. La caramella. E come ho tolto la busta. Leggermente si muoveva. Poco eh. Poco. Quindi penso di aver fatto tutto in sicurezza. E penso che andrà bene. A meno che non sia un terremoto che fa muovere tutto. Tra un mese magari. E quindi è stato fatto tutto in sicurezza. Tutto abbastanza bene. Il terriccio mi permetterà di fare un'ottima coltivazione. Durante questi tre barra cinque anni. Bisogna vedere fra tre anni. Se va in sofferenza. Perché ha riempito tutto il vaso. Bisognerà fare un rinvaso. Se vedo che continua. Se si vediamo che continua a andar bene. Che la coltivazione è buona. Allora si può continuare. Quattro cinque anni. Io prevedo che su una pianta del genere. In base a quello che sarà poi il suo vigore futuro. Ci vogliano cinque anni. Per fare un primo cambio di vaso. Queste sono le tempistiche. È stata amargottata. Quest'anno. Quindi ha radicato abbastanza facilmente. I giorni prossimi ne vediamo altre. Martedì ne vediamo un'altra di sicuro. Perché ho tutto pronto. Ho fatto un vaso un po' particolare per l'altra. Perché è aperto. È una pianta particolare. Rappresenta proprio la Sardegna. Stile a vento Fukinagashi. Quindi vediamo. Poi ce ne sono altre. Quindi vediamo man mano. Diversi casi. È in base al disegno che ha la pianta. Come pensare. Come agire. Questo è importante. Importante sui esemplari così. Sono esemplari che sono unici. Non è che abbiamo tante possibilità. Non abbiamo possibilità di errore. Se sbagli. Butti via tutto. Ok. Sbagli terriccio. Sbagli. Come dicevo prima. Due tre irrigazioni errate. Butti via. Sbagli a legarla. Butti via. Togli la busta. La stacchi troppo presto. E non va tanto bene. Soprattutto in questo periodo. Perché le alte temperature creano funghi patogeni all'interno della caramella. perché non essendoci scambi gassosi. Abbastanza scambi gassosi. Infatti come ho tolto la busta. E colata dell'acqua. Dell'acqua scura. Quindi quello. Adesso eravamo al limite. Martedì ne vediamo un'altra. Sempre con altre. Altre cose sto guardando. Pesa. Pesante. Martedì ne vediamo un'altra. Quindi ci vediamo martedì. Alle 18. Sperando che non ci siano venti caldi. Che impediscono un po' di fare questa operazione. Se ci fossero dei venti caldi. Cerco di. Faccio qualcos'altro. Oggi ero in dubbio. C'era tanto vento. E quindi. Aprire le caramelle con questo vento. Rischioso. Va bene. Non so che ora abbiamo fatto. Comunque. Ci vediamo martedì. Alle 18. Il programma è di mettere in vaso un'altra. Vedremo. Buona domenica. Buona pizzata. A chi la fa. Ciao.